Allora, l'annuncio io? Devo annunciarlo io? Me lo fate fare? Che dai, che dopo devo suonare un po', le vedi, le vedi, le vedi, le vedi, le mie bambine, vada le mie bambine, vada quella, la seconda stella, vada la chitarra seconda stella. L'annuncio io. Benvenuto, Bento, un metro e novanta, novantadue chili, brasiliano, Bento Mateus Krepsky, un armadio, come si diceva, un armadio. Quindi, nazionalità è brasiliano, portiere della nazionale, è stato Bento, del 2000, 1925 anni, 25 anni. Quindi, a me mi viene da ridere, loro vogliono 20 milioni e te lo porti a casa, ma secondo me, ausilio con 15 lo porti. Quindi, come doppio, allora, come portiere siamo a posto, portiere siamo a posto, è un armadio, è veramente un armadio, ho visto qualcosa, tanta roba. Un gatto, un gatto, un gatto che la prende in tutti i modi, per terra, cioè, capito, questo fa proprio per l'Inter. Fa, 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 fa proprio per l'Inter questo qua. E mi piace tantissimo, fa proprio per l'Inter questo qua, proprio, ha le movenze, le caratteristiche. Benvenuto Bento, è un calciatore spinto da tanti, dal Brasile, da Maicon e To, è stato spinto da tanti verso l'Inter. Forza, ragazzo, Bento, un colosso, un animale, è anche bello, è come Sommer, è anche bello. Sommer, Bento, ragazzi, puoi dormire tranquillo. Dici, si è fatto male Sommer? Certo. Abbiamo Bento. O, si è fatto male Bento? Abbiamo Sommer, capito? Tanta roba, Bento è tanta roba, ho visto certe parate. Mamma mia, mamma mia, benvenuto Bento.